Mettere in rete imprese i professionisti dell'edilizia, fare il punto sullo stato dell'arte in ambito di edifici a basso consumo, analizzare le strategie e politiche ambientali in atto e future. Sono stati questi i temi principali della quinta conferenza nazionale Passive House tornata a Bologna con successo nella cornice dell'Opificio Golinelli. Un edificio realizzato e certificato con lo standard Passive House permette di risparmiare fino a dieci volte rispetto ad uno già esistente. L'Italia si sta dimostrando pronta per questa rivoluzione culturale? Ci sono tantissimi attori all'interno del panorama italiano che si stanno già approcciando da anche dieci anni ad esempio. Le persone non lo sanno, esiste veramente un humus sul nostro territorio che sta lavorando in quella che io chiamo una rivoluzione silenziosa, quindi progettisti, imprese, maestranze, produttori di componenti, amministrazioni, best practices sui territori, effettivamente quello che io posso dire dalla mia cabina di resia diciamo nazionale su Passive House, i committenti lo chiedono. Alla conferenza ha partecipato anche Giuseppe Nicola Tota, caporeparto dello Stato Maggiore dell'Esercito, una presenza importante perché proprio l'Esercito è molto attento al tema dell'edilizia sostenibile. Noi siamo interessati a questo progetto di Passive House perché abbiamo un patrimonio abitativo molto vasto, dalle Alpi a Pantelleria. Quindi siamo interessati perché tutto questo patrimonio deve essere ristrutturato. Capite bene che le nostre caserme sono abbastanza adattate ed è arrivato il momento opportuno per riqualificarle nel senso giusto, secondo la normativa europea che è stata emanata. Durante l'evento è stata inoltre presentata a Passive House la prima e unica pubblicazione prodotta in Italia sul tema degli edifici sostenibili che porta la firma di Francesco Nesi. Ad esempio ci sono anche dei QR code all'interno del libro con dei preconcetti o delle domande extra del tipo ma davvero si possono aprire finestre in una Passive House? Oppure ma d'estate quindi se invito gli amici a cena vado in surriscaldamento? Come si fa? E questo diciamo partendo da queste analisi semplici chiaramente andando proprio a spiegarlo da un punto di vista scientifico e tecnico si riesce proprio a rappresentare quello che è proprio il benessere abitativo codificato all'interno dello standard Passive House. Entro alcuni anni diventerà obbligatorio costruire solo edifici a energia quasi zero per abbattere i consumi degli edifici tra le cause principali dell'inquinamento del nostro pianeta. Regioni virtuose come l'Emilia-Romagna hanno già anticipato l'obbligo al 2017 per gli edifici pubblici e al 2019 per quelli privati residenziali. Guardavo le attività che da anni svolge Zephyr e Passive House svolgono e sono simili a quelle che fa l'Enea. L'attività legislativa o normativa serve a diffondere in qualche modo le tecnologie per l'efficienza dai sistemi passivi di climatizzazione ai sistemi attivi, alle pompe di calore che sono nella strategia europea quelle di maggior prospettiva. Presente anche il divulgatore ambientale Luca Lombroso, da poco rientrato dalla conferenza ONU sul clima. L'Università di Modena Reggio Emilia adesso è stata riconosciuta come observer nel negoziato ONU e abbiamo partecipato proprio anche a un incontro con il ministro che fra le varie cose ha annunciato, non è una cosa da poco, che in Italia si abbandona l'uso del carbone, che il futuro è verso le fonti rinnovabili, si è visto in tanti incontri anche al di là di quello che era l'Italia, anche gli stessi Stati Uniti. Il risultato di per sé della conferenza è un po' formale, un po' di percorso ma che va in modo irreversibile verso l'applicazione dell'accordo di Parigi che non è messo in discussione da nessuno. Tra i temi toccati è anche il fastidioso problema delle fake news quando si parla di meteo e clima. Infatti è importante conoscere il tempo atmosferico e i fenomeni che lo governano fin dai banchi di scuola. In questo modo si sviluppa una competenza non necessariamente specialistica ma culturale che ci consente di vaccinarci da certe anomalie del sistema che puntano soprattutto a guadagnare click, a guadagnare attenzione ma a non trasmettere informazioni corrette. Passivhaus in clima mediterraneo è stato un altro momento importante di confronto durante la conferenza nazionale. Gli esperti hanno parlato anche della difficile situazione che si vive in Grecia dove l'Ellenic Passivhaus Institute è l'unica realtà che sta provando a smuovere qualcosa nel settore edilizio in tema di efficienza energetica. Ma siamo ottimisti, noi lo dobbiamo fare e lo faremo.